E' una bella nave, Telemene. Alexios! Proprio così, ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Quanto vuoi per separarti da lei? Non l'abbandonerei mai per meno di centomila. Centomila? Chi possiede quella cifra? Uno che vuole comprare una nave. Credi che una barca del genere valga di meno? E se ti offrissi dell'ossidiana, in cambio? Vorrei comunque centomila drachme. Ma, anche se accettassi, ti servirebbe un esercito per governare una nave così grande. Siamo a Cefalonia. Troverei di sicuro qualcuno disposto a lavorare per uno straccio di paga solo per andarsene da questo scoglio. Di questi tempi, i mari sono più pericolosi del solito. Sarebbe un suicidio. Non mi sei d'aiuto, Telemene. Non so se aiuta, ma ho sentito che il ciclope sta venendo a prendere te e Marco. Sono solo voci. Non credere a tutto quello che senti. Sembrerebbe anche che abbia traccato nella baia dei ladri. La sua nave, eh? Farò un salto alla baia dei ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Potrei occuparmi di...